Nessuno si metterà tra te e la tua missione. Né Hunt, né il suo team. Nessuno. La CIA è stata infiltrata. Fatti festa tua e lui è autorizzato a trovarti e ucciderti. Senza rancore. Dove, Benji? A sinistra! Che stai aspettando? Sto per saltare da una finestra! Scusa, auguri! Mission Impossible Fallout, al cinema dal 29 agosto. Scusa, auguri!